Ho deciso di parlarvi di perché fa bene lavorare a un cimento. Uno dei benefici principali che riguarda la mente, ebbene sì, perché riduce l'ansia, riduce lo stress, migliora l'umore, la salute fisica, cioè un miglioramento, la coordinazione. Può prevenire l'artrite, anche se sembra un po' di uguala cosa, però la ripetizione, appunto il movimento delle dita, le rende fluide benefici cognitivi, incrementa la concentrazione e aiuta a sviluppare le capacità di risoluzione dei problemi. I benefici emotivi, beh che dire, sicuramente è un progetto fatto a mano da grandissime soddisfazioni. Il fatto di lavorare a un cimento ci permette di riprodurre o di creare i capi che in una boutique avrebbero un prezzo di vendita davvero esagerato, mentre noi possiamo farlo con un importo molto più basso. A sua volta ci permette anche di poter avere un guadagno. Lavorare a un sinetto ci dà delle soddisfazioni e dei benefici che possono migliorare la qualità della nostra vita.